In occasione del 24 aprile giorno che ricorda il massacro degli armeni compiuto dall'impero ottomano fra il 1915 e il 1916, il teatro comunale Claudio Abado di Ferrara ha proposto una conversazione spettacolo che ha voluto portare l'attenzione del pubblico su questo Genocidio Dimenticato. A parlarne sul parcoscenico del teatro sono intervenuti la scrittrice Antonia Aslan, autrice del romanzo La masseria delle allodole, che nel 2004 ruppe il silenzio sul massacro di cui fu vittima anche parte della sua famiglia di origine. Con lei il direttore della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Amonio Vadia, il saggista Vittorio Robbiati Bendaut, coordinatore del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia, accompagnati dagli intermezzi musicali di Claudio Fanton, suonatore di Doduc, antico strumento musicale tradizionale armeno. Per tele stense abbiamo voluto incontrare i protagonisti di questa performance teatrale per conoscere le motivazioni della scelta, cominciando dalla scrittrice Antonia Aslan, alla quale abbiamo voluto chiedere, per cominciare, quanto il suo romanzo abbia contribuito a rompere il silenzio sul genocidio degli armeni. Intanto io ho fatto quello che ho potuto per accettare gli inviti in giro per l'Italia. Quindi ho percorso il paese da nord a sud, da est a ovest, andando nei posti piccoli e nei posti grandi, nella piccola scuola e nel grande liceo. Anche quello di Ferrara, per esempio, è come quelli di tutta l'Emilia Romagna e così via, ma anche molto più distante, fino in Sicilia e fino anche a Reggio Calabria, insomma un po' dappertutto. Andando nelle scuole, in qualche modo porti la tua testimonianza diretta e io ho sempre cercato di non fare un discorso di tipo troppo personale. La storia che racconto deve in qualche modo essere assorbita dal lettore, gli è stata spiegata, l'ha capita. Da questo si parte verso che cosa è stato un genocidio, che cosa vuol dire genocidio, come si è ripetuto poi nel secolo, durante il secolo, durante tutto il Novecento e le diverse occorrenze, soprattutto il grande legame che il genocidio armeno ha avuto con la Shoah ebraica. Più io questo, diciamo che lo sapevo, ecco, per via anche familiare. Ma poi, in questi vent'anni, gli studi sono stati enormemente approfonditi, si sono ampliati, capisce, sono venuti fuori opere proprio accademiche, molto serie, precise e ampie, sono venuti fuori testimonianze e tutto quello che era un'intuizione è diventata una verifica molto solida. Lei è arrivata tardi a scrivere un romanzo, docente di letteratura italiana, saggista, ha scritto molto molto di critica letteraria, di storia letteraria. Ecco, che cosa l'ha spinta a scrivere questo bellissimo, splendido romanzo, anche se è così doloroso? È stata una maturazione, è stata in qualche modo, come posso dire, qualcosa che si è verificato un po' perché sono accaduti dei fatti che dovevano accadere in quel momento. Due concerti a Venezia di un grande coro armeno di Parigi che mi commossero in un modo così profondo, proprio così terribile, devo dire. Tant'è vero che durante, erano due concerti, il coro esiste ancora, il coro Acne e a un certo punto cominciai a scrivere una ballata e capivo che era una ballata. Io ho scritto diverse poesie in vita mia ma non le ho mai pubblicate ma per esempio due o tre volte dei cicli di ballate. Una era sulla guerra dei trent'anni per esempio che ogni tanto rileggo e poi lascio lì. E questa era la prima ballata che ho chiamato più che ermena, ballata anatolica. E questo era scritto sul rovescio del programma e così. Dopodiché, poco tempo dopo, mi è capitato di sentire in inglese e francese alcune poesie di Daniel Varugian. E questo evidentemente è stato per me in qualche modo come scrostare dentro quello che sapevo della realtà armena, di quello che era successo eccetera, ma renderlo non più una sensazione del passato ma una sensazione del presente. Era come se fossi là, se rivivessi, fossi con quelle donne, fossi nel deserto. Sentivo i flauti, li ho chiamati i flauti di ossa. È una frase che per me significa proprio le ossa, le centinaia di migliaia di cadaveri abbandonati nel deserto siriano e quando sono diventati solo le ossa nel deserto che molti viaggiatori hanno poi visto negli anni venti. E questo in pratica ha causato in me un sommovimento per cui è riemerso quello che non avevo mai negato ma che avevo lasciato nel fondo di me stessa e cioè la testimonianza di mio nonno in quell'estate dei miei nove anni nella piccola cittadina, paesino di mezza montagna vicino a Belluno che si chiama Susin di Sospirolo. E là sotto questa immensa pergola di glicini lui mi aveva raccontato la storia. Quella storia che i bambini, gli puoi raccontare qualsiasi cosa in realtà ai bambini, non è vero che siano così sensibili, tanto loro non pensano di morire. Quindi la sua mamma che muore a 19 anni di parto, il suo fratello che viene decapitato, la sua mamma che si chiamava Iscui e lui di lei aveva solo il ricordo di questo calore materno, di questo odore di mamma. E questo mi disse, cioè il nonno si confidò con me come non aveva mai fatto con nessuno perché mi aveva salvato la vita, era un grande medico, mi salvò la vita e poi mi portò lui in montagna e prima mi domò perché io ero molto ribelle e l'altro nonno faceva tutto quello che volevo io. Mi chiedeva scusa se per caso mi offendeva. Mio padre lo stesso e quindi io ero abituata a fare esattamente quello che mi saltava in mente. Il 27 gennaio un dialogo fra lei e Corrado Augas sulla Shoah e quindi sul significato anche della commemorazione, diciamo, del genocidio, dell'olocausto. Lei distingue anche dal punto di vista terminologico, ecco. Per noi è Shoah che significa distruzione. Perché l'olocausto è un elemento di sacralità che non appartiene alla distruzione. Ecco allora adesso qui in teatro il 24 aprile questa riflessione sul genocidio degli armeni. A lei chiedo, ha un valore educativo la riflessione sui genocidi o comunque che valore ha? Secondo lei, lo chiedo a lei, non solo come intellettuale, non solo come artista ma anche come direttore di questo teatro. Dunque io ritengo che la cultura della memoria che nasce intorno alla Shoah, cioè un progetto memoria, che non è una commemorazione di ciò che è avvenuto nel passato. Certo contiene quello. Ma come scriveva Fortini in un articolo diventato celebre, le vetrine di Auschwitz, tanti anni fa sul Corriere della Sera, dice, per noi la memoria è importante solo nella misura in cui vogliamo progettare e vivere la nostra vita. Se no siamo destinati a vivere quello che altri vogliono per noi. La memoria è un progetto per edificare presente e futuro. perché gli elementi di odio, di violenza, di sopraffazione, di la mentalità discriminatoria, soprattutto la mentalità del privilegio, lo diceva Primo Levi, se volete che non si ripeta più, combattete contro la logica del privilegio con tutte le vostre forze. Io credo che il progetto memoria, la cultura della memoria, sia un valore altissimo per edificare una società di giustizia e di pace. E questa cultura della memoria deve essere, deve appartenere a tutte le genti, a tutte le minoranze che hanno patito discriminazioni, genocidi, stermini di massa, vessazioni, segregazioni. E io vorrei procedere in questa direzione. Lei ha parlato di donne, parlando della Massella delle Allodone. E io ho sempre pensato che questo romanzo sia un epical femminile. Perché le donne lì hanno un ruolo di protagonista nel dolore, nella capacità anche di cercare di salvare il salvabile. Ma sì, è vero. È proprio vero. Grazie. Perché vede Dalia? È così. Non è che loro agiscano in opposizione ai loro uomini. Gli hanno uccisi, gli uomini. La caratteristica del genocidio armeno è la differente destino di uomini e donne. Quindi gli uomini vengono uccisi subito, quasi dappertutto. E le donne avviate la deportazione. E quindi tocca a loro pigliarsi la responsabilità di salvare quello che possono. Di imbruttire le facce delle loro figlie perché non siano portate via dagli zaptie. Di tenere in vita un bambino su tre e dover a volte scegliere quale bambino far vivere. queste scelte terribili. E naturalmente poi su questo ci sono ormai dei libri anche. Quindi diciamo che lei giustamente dice che è un po' un epical femminile già per la masseria che poi prosegue nella strada di Smirne molto. Se lei la letta, la strada di Smirne è un libro cui tengo moltissimo fra l'altro perché mi è costato molto. E quest'anno sarà poi l'anniversario della tragedia di Smirne. E poi anche adesso, adesso che gli studi sono progrediti anche dal punto di vista femminile, ci sono delle piccoli cammei di storie che vengono fuori. Per esempio uno che è in un certo senso particolarmente terribile. E vorrei concludere con questo. Allora ci sono ci sono state nel deserto siriano, mentre queste carovane di donne sempre più spoglie, sempre più macilente in qualche modo avanzavano, molte donne che sono state, giovani soprattutto, rapite, portate via e in quel momento loro lo accettavano perché si trattava di vita o di morte, dai beduini del deserto siriano e arabi. E questi non le hanno trattate male, ma le hanno tatuate perché il tatuaggio significava proprietà. Quando poi è finita la guerra, queste donne spesso ormai avevano anche avuto un figlio magari o due o così, sono state in parte riscattate da una gigantesca operazione in cui fra l'altro si sono distinti personaggi ebrei particolarmente attivi come l'ex ambasciatore Morgentau e che si chiamava in questa associazione che si chiamava Niri Stirlis. Ora, nel momento in cui queste povere donne sono state riscattate, cosa fare di loro? Erano ormai donne usate, erano tatuate, tatuaggi che non si potevano togliere, sono tatuaggi in blu, per esempio cerchi, disegni sulle guance, sul mento, sulle mani soprattutto e tentarono di toglierli, impossibile. E così queste povere donne rimasero a carico della comunità armena francese che è molto numerosa, come si sa sono più di mezzo milione di persone, a vivere, a trascinare la loro vita in alcuni appartamenti di Parigi. Perché è una storia molto triste, ma all'epoca non si sono più potute sposare o trovare. È anche una forma di genocidio, anche questo, capisci? Qualcuno avrà ritrovato una famiglia. C'è anche un video molto bello fatto in California qualche anno fa che racconta la storia di una, ma la maggior parte finì sola in alcuni appartamenti di Parigi. Questo 24 aprile non è notissimo, non è come il 27 gennaio, il 7 aprile che è l'anniversario del genocidio della Rwanda ancora meno. Ci sono tanti genocidi purtroppo, fra il novecento e anche questo ventennio di terzo millennio. Che cosa l'ha spinta, come dire, a concentrarsi sul ricordo, una riflessione sul genocidio degli armeni? Una bella domanda. Allora, io sono cresciuto con la biblioteca di mia nonna, svettante il libro di Franz Werfer, I 40 giorni del Mossadag, che è il libro che ruppe il silenzio nel mondo sul genocidio armeno. E l'autore era un ebreo, che lo scrive nel momento in cui Hitler sale al potere in Germania. Infatti il libro viene messo immediatamente all'indice e i nazisti parlarono di un complotto ebraico armeno. Può immaginarsi due minoranze sparute che complotto potevano fare. E già da metà ottocento, data l'alleanza tra la Germania e l'impero ottomano, quindi ben prima del nazismo, i tedeschi dipingevano alla loro popolazione gli armeni come gli ebrei del Medio Oriente e quindi dannosi ai turchi e all'impero ottomano islamico, tanto quanto gli ebrei in Germania e in Europa. Per cui venivano chiamati Uber Juden, super ebrei. Questo fa parte della Germania. Ricordo che la Germania nel Novecento fa tre genocidi. Il genocidio degli erero, che è il proto-genocidio, popolazione africana sotto dominio tedesco. Genocidio degli armeni in complicità e combutta con i turchi, che sono i principali attori e dove ci sono anche altri attori dell'universo turco e popolazioni che in quel momento prestarono la mano d'opera genocidaria, ad esempio i kurdi. E poi c'è il genocidio contro gli ebrei. Questo dovrebbe far taceri i tedeschi per i prossimi duecento anni, cosa che però non hanno ancora imparato a fare. E come dice Andrea Otti, voglio talmente bene la Germania che ne vorrei due. Ciò detto, il mio compagno di banco alle medie è un ragazzo, era ed è un ragazzo armeno. Quindi per me gli armeni sono questioni di famiglia. E fin da subito, quando uscì il libro di Antonio Arslan, venne letto in famiglia mia, lo lessi anch'io, ma in generale è un libro che nonostante hanno letto tutti gli italiani, ma hanno letto anche molti ebrei italiani. Io credo che si possa dire che l'ebraismo italiano, in particolare il presidente dell'assemblea rabbinica, ormai scomparso da qualche anno, il rabbino Laras, fu quello più avanzato sicuramente in Europa e in Nord America sulle posizioni da parte del rabbinato ortodosso e dell'ebraismo italiano, pur con tutta la specificità che ci richiede, riguardo alla questione armena. E tra l'altro in grande amicizia con Antonio Arslan. Circa Antonio Arslan, questo non lo so chi può dire, ma se Werfel sta al genocidio armeno come Levi sta alla Shoah, potremmo dire che Antonio Arslan sta al genocidio armeno come Liviser sta alla Shoah. Questo vuol dire che in Italia abbiamo tanto Primo Levi, come letteratura, che Antonio Arslan, con delle ricadute mondiali. E poi questi due genocidi, un po' l'ho già accennato, sono estremamente collegati tra di loro, perché c'è una complicità tedesca e per far apparire in Europa, a mettere Europa, gli armeni esecrabili, che pure erano cristiani, più antico popolo cristiano, la categoria di raffigurazione era quella antisemita. E questo è qualcosa di assolutamente rilevante. Per cui non è un genocidio distaccato, è un genocidio specifico, per cui merita una memoria specifica, particolare, precisa, che è quella del 24 aprile. Questo progetto memoria deve diventare un valore universale. Attraverso proprio coloro che hanno sofferto, ma la lezione importante, questo lo diceva con molta, molta pregnanza la scrittrice Elena Leuventhal, è anche per i paesi che hanno albergato i carnefici. Paradossalmente dovrebbe essere più per loro. Allora, nel momento in cui un paese riconosce le proprie responsabilità, le responsabilità delle proprie classi dirigenti, naturalmente parliamo sempre di questo, quel paese migliora la sua condizione, sia di relazione con se stesso che di relazione con l'altro. L'esempio della Germania è lì da vedere. La memoria deve farsi coscienza, oltre che del giusto, anche del male in cui ha compiuto. Certo, sapere che esseri umani hanno potuto fare questo a dei loro simili, proprio perché sono prevalse ideologie nazionaliste e ipernazionaliste che per loro natura discriminano fra gli autottoni e gli allogeni. Allora, questo è all'origine delle catastrofi. E quindi, se questa cultura della memoria si rinforza, comprende e abbraccia tutti coloro che hanno patito della violenza e appunto dei genocidi e degli stermini, potrà anche sollecitare quei paesi che invece hanno avuto regimi, che sono stati carnefici, a imboccare un altro cammino. E' anche per questo che io da molti anni continuo a dire che il mito degli italiani brava gente è un enorme danno per il nostro paese. La brava gente era una nazione. Brava gente è brava gente. Certo, ci furono e ci sono moltissimi italiani che sono brava gente, ma non in quanto italiani, in quanto brava gente. Perché i fascisti italiani hanno perpetrato un genocidio in Cerenaica, uno sterminio di massa in Etiopia per stendere un velo su quello che hanno fatto nelle terre della ex Jugoslavia. Allora, se si prende coscienza e si riconosce, si migliora. L'uomo che riconosce le responsabilità sale proprio nella sua statura di essere umano degno di questo nome.